Ciao a tutti ragazzi benvenuti ad un nuovissimo video oggi 29 dicembre da Amazon mi è arrivato un pacco ma stavolta io non ho ordinato niente potrebbe essere qualcosa che mi ha mandato qualcuno comunque adesso prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing ok mi è arrivato questo film Terra Selvaggia che è la storia di Billy Day Kid film del 41 con Robert Taylor questo è stato un regalo di mio cugino Massimiliano Fonti allora qui le varie lingue italiana e inglese contenuti estra c'è il trailer, galleria fotografica e posterello candine per vendicare la morte violenta del padre William Booney diventa fuori legge famoso col nome Billy Day Kid viene ricondotto sulla vetta via da un amico Jim quando però Eric Cutting l'allevatore presso il quale lavora c'è anche lo sceriffo viene ucciso Billy vorrebbe vendicarlo ma Jim lo fa rinchiudere in prigione troppo sottotitoli niente di niente e niente ah l'attore Robert Taylor in questo film è doppiato dal suo doppiatore ufficiale cioè Giulio Panigali e come potete ben vedere il film non è neanche nero ma è a colori per essere del 41 penso che la MGM cioè la Metro con lui Meyer abbia speso un sacco dei soldi per fare il film e niente ci vediamo alla prossima grazie